Nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio qui in Roma si è tenuto oggi il primo evento in presenza a livello nazionale di Dawa Technology Italy. Ne parliamo ora con Tiziano Chiarini, uno dei relatori a questo evento, responsabile formazione Dawa Technology Italy. Da dove nasce face to face. Ciò che ci ha portato a fare questo evento e ad intitolarlo face to face è stata proprio l'esigenza innanzitutto di incontrare vis-à-vis le persone, cosa importantissima dopo tutto ciò che è successo. Seconda cosa molto interessante invece riguarda proprio il fatto che la necessità soprattutto di cercare di far capire che cosa vuol dire avere a che fare con l'intelligenza artificiale, facendolo un po' alla nostra maniera, quindi cercando un po' di ribaltare i ruoli e cercando di coinvolgere la platea nell'analizzare ciò che gli succede tutti i giorni e cioè ciò che il loro lavoro quotidiano, consideriamo che in questa platea ci sono utenti finali, ci sono sistemi integratori, ci sono professionisti che fanno questo di mestiere, per cui è molto eterogenea, ma gli accomuna tutti quanti l'esigenza di conoscere, di formarsi, di capire che cosa sta succedendo, anche perché l'intelligenza artificiale cambia in continuazione, per cui cambiando in continuazione devi continuare a capire cosa sta succedendo prima di poter fare degli investimenti completamente sbagliati, perché? Perché non lo si conosce. In effetti molti gli interventi o meglio anche le domande che voi ponevate alla platea, ma molte anche le domande che la platea ha posto ai relatori, quali le più significative, su quali temi vertevano? Diciamo che qui ha toccato proprio l'argomento principe, la fame di notizie, la fame di conoscenza, abbiamo ribaltato il sistema, per cui eravamo noi a fare le domande al pubblico, ed è un po' questo che ha poi dopo animato e veramente animato tanto la curiosità di tutti e la bramosia nel far domande, cosa che difficilmente succede in un'assemblea dove c'è tanta gente, quindi vanno in gioco problemi quali appunto voler parlare in pubblico, avere un po' di reticenza nel farlo, è stato l'esatto opposto, siamo riusciti a portare delle problematiche molto forti che sono quelle legate all'intelligenza artificiale e fare i conti con le normative, soprattutto la privacy e far capire come poter usare dati sensibili, perché tra le varie applicazioni dell'intelligenza artificiale si ha l'opportunità di avere anche dei dati molto sensibili, in quali ambiti poterlo fare e per quali necessità si possono fare queste cose, riuscire a chiarire questo e soprattutto facendolo con degli esempi fisici e andando a analizzarne uno per uno, portando fuori risposte nel contempo domande da parte della platea è stato molto interessante, perché se riuscite a far capire alla gente che i prodotti di un'azienda come Dawa sono costruiti in modo tale che si possano assoggettare adeguandosi alle varie esigenze in tutte le applicazioni, per cui una sola scelta, il prodotto Dawa intelligente, un milione di applicazioni e di soluzioni. Chiarissimo anche qui, tra l'altro lei durante il suo spicio, o meglio tra i vari spices che ha fatto, ha sottolineato che in Dawa è nato un ufficio interno che si occupa specificatamente di progettualità per dare proprio supporto alle aziende. Eh sì, ed è stata una scelta del nostro management quella di puntare tanto su questo, allora quando cominci ad entrare nel mondo delle soluzioni hai la necessità di conoscere molto bene la realtà che ti circonda. Parlare di soluzioni vuol dire parlare di un coacervo di prodotti i quali formano una soluzione a seconda di come questi prodotti vengono utilizzati. Il fare un ufficio project ci ha permesso di poter avvicinarci all'utenza finale insieme al system integrator in modo da poter far capire quanto si possano integrare i nostri prodotti sulle realtà che già esistono, sul mondo già esistente e quindi il poter fare dei progetti insieme pensando al futuro, quindi pensando al alle esigenze che ci potranno essere in un prossimo futuro da parte dell'utente finale, ma nello stesso tempo il far capire dove sta andando la tecnologia in modo da poter fare un investimento che non sia vecchio in partenza, ma che sia un investimento vero e proprio che poi possa fruttare, possa dare frutti negli anni a venire. Questo è il ragionamento e l'ufficio è nato per questo. Ecco, un altro tema sul quale si è dibattuto molto è stato quello relativo al perimeter protection e lì c'è stata un'esplosione di funzionalità da parte delle telecamere. Eh sì, beh lì quando abbiamo fatto vedere il filmato dove una generazione precedente di telecamere inquadrava degli animali di vario taglio, dal gatto fino al cavallo, messa a confronto con la nuova generazione di telecamere intelligenti che distinguono l'essere umano o il veicolo, tralasciando tutto il resto e si vedeva ad esempio dei cavalli uscire da una stalla e col vecchio sistema venivano presi in considerazione come fossero dei target d'allarme, con la nuova generazione di telecamere non lo fa più, per cui animali, piante che si muovono, luci che entrano nella scena, la pioggia, la neve, la grandine e così via non danno più fastidio. Quindi si può utilizzare una telecamera come se fosse un impianto antintrusione, sì proprio come impianto antintrusione ed è un po' la novità di questa applicazione, la perimeter protection che è appunto il cercare di comprendere se un essere umano oppure un veicolo e focalizzarsi su questo, questi target entrano e fanno un'effrazione in riuscire a sapere prima, in avere un preallarme, il durante l'allarme e il sapere come gestire il dopo dell'allarme, il fatto il tutto con una sola telecamera vuol dire avere azzeccato l'obiettivo e nello stesso tempo aver fatto risparmiare chi deve fare l'investimento. Più di così.